Polemiche per la nomera di italiani al vertice del consorzio Piomba-Valfino, perché non siete d'accordo con questa nomina? Più che polemica, la nostra è una netta presa di posizione. Oramai è quasi un anno che abbiamo chiesto il commissariamento, siamo stati contentissimi del fatto che comunque la Regione abbia recepito questa volontà da parte di tutti i comuni del consorzio, solo che è un attimo un controtendenza a chiedere il commissariamento e poi confermare come commissario colui che comunque ha gestito negli ultimi cinque anni il consorzio. Quindi siamo fortemente contrari a questa nomina, soprattutto anche nei modi, perché probabilmente non vorremmo che la nostra città, così come tutte le altre città del comprensorio, finiscano su tavoli differenti da quella che è la gestione dei rifiuti. Quindi siamo contrari fortissimamente contro questa nomina del commissario, perché vogliamo una netta discontinuità con quello che è il passato, che ad oggi non ha portato alcun beneficio alle città e ai paesi del consorzio Piomba-Valfino. Ora ci vorremmo vedere chiaro, proprio perché non abbiamo visto bene alcune mosse fatte proprio riguardanti la trasparenza. Oggi il fatto che siamo stati poco coinvolti fa capire il modo di gestire la politica proprio del PD. Molti sindaci che fanno parte del consorzio, che hanno avviato una battaglia contro la gestione di questo consorzio in questi ultimi anni, stamattina non sono venuti. Non è venuto nessuno degli esponenti, soprattutto del PD, che in questi due anni hanno portato avanti delle battaglie, delle contestazioni, a cui è culminato anche con l'esposto fatto alla Corte dei Conti. Solamente e probabilmente non saranno venuti perché qualche sindaco del PD che fa parte del consorzio probabilmente è vicino a qualche consigliere regionale che ha avallato e ha suggerito questa nomina di questo commissario al consorzio. Quindi questo dispiace, noi siamo qui appunto per dire no a questa nomina e quindi chiediamo al Presidente della Regione di revocare questa nomina immediatamente.